Sergio, nella sua introduzione, questo primo intervento riguarda le modalità, l'utilità di utilizzare gli strumenti del web sociale all'interno di processi di partecipazione, in particolare per la partecipazione online. Il primo punto sul quale vorrei soffermarmi è di che cosa stiamo parlando quando parliamo di social media, qual è la dimensione del fenomeno, qual è la dimensione di utenti di utilizzo di queste piattaforme. Questa che vedete è l'ultima rilevazione che è stata fatta a gennaio 2017 sulla diffusione globale delle piattaforme di social networking, quindi quelli che normalmente chiamiamo i social media, che usiamo quotidianamente ormai attraverso lo smartphone piuttosto che il tablet o il pc, e già colpo d'occhio questa mappa aiuta a capire di che cosa stiamo parlando, ci stiamo parlando di un mondo che è molto connesso, di piattaforme che sono praticamente utilizzate da svariati milioni, miliardi di persone, e quindi stiamo parlando di strumenti che hanno una potenzialità in termini di comunicazione, di relazione, di raggiungere numeri elevati di persone che sino a pochi anni fa erano impensabili. Scendendo a livello italiano, quindi avete visto la mappa, la diffusione, io ci torno un attimo, sono stata molto veloce, però come potete vedere Facebook è largamente dominante come piattaforma di comunicazione social in quasi tutto il mondo. Scendendo al contesto italiano, sempre dati di gennaio 2017, qual è la situazione italiana? Anche qua sono numeri importanti, vedete in proporzione su quasi 60 milioni di abitanti, 40 milioni usano internet, 31 milioni sono gli utenti attivi sui social. Quindi anche qua la situazione italiana, nonostante si senta molto parlare, soprattutto in Italia, di digital divide, di difficoltà di accesso a internet, di difficoltà di avere familiarità con le tecnologie, quindi tutto il tema legato alle competenze digitali, la capacità dei cittadini di usare in maniera avanzata e consapevole le tecnologie, questi numeri comunque ci danno l'idea del fatto che quel fenomeno, quindi quella diffusione che abbiamo visto nella mappa, ha un corrispettivo anche in Italia. 31 milioni di utenti attivi sui social media in Italia, su quali social media? Questa è sempre, diciamo, sempre andando più nel dettaglio, la situazione in Italia, quindi quali sono le piattaforme più utilizzate? Come vedete le prime due per utilizzo, per numero di utenti, sono YouTube e Facebook. C'è un dato interessante che non approfondiremo durante questo intervento perché un po' esula e perché riguarda uno strumento come Whatsapp che non viene usato particolarmente nei processi partecipativi online come canale di comunicazione e raccordo con i cittadini, ma che secondo me è importante ed è appunto il terzo posto di Whatsapp tra i canali e le piattaforme social più utilizzate, che invece è un elemento importante, ragionando in termini più ampi di qual è lo scenario degli strumenti che un'amministrazione pubblica può utilizzare per gestire la relazione con i cittadini, è il fatto che Whatsapp, che di fatto è una piattaforma di instant messaging, di comunicazione che però è largamente utilizzata, può essere, potrebbe diventare un canale sul quale investire o utilizzare all'interno di una strategia di comunicazione che includa diversi tipi di canali, considerando il fatto che è uno strumento facilissimo da utilizzare e che consente di raggiungere molte persone. Mi immagino per esempio che sono le attività di comunicazione che riguardano la gestione delle emergenze, per esempio, quindi quando si ha necessità di raggiungere in maniera rapida e tempestiva molte persone, forse potrebbe essere uno strumento sul quale fare dei ragionamenti. Però nella logica dell'intervento di oggi invece ci soffermeremo su quegli strumenti che poi anche nei casi pratici, nelle esperienze che in Italia sono state realizzate, sono utilizzati come strumenti per supportare i processi di partecipazione. Questi numeri confermano il fatto che alcune piattaforme sono più popolate e più utilizzate di altre, e quindi in una logica di utilizzare i canali dell'orbe sociale a supporto di processi partecipativi, ha senso scegliere Facebook piuttosto che altri canali che magari consentono di raggiungere porzioni inferiori di popolazione. Abbiamo parlato, le parole che ho usato finora sono state appunto social media e processi di partecipazione. Di cosa parliamo quando parliamo di processi di partecipazione civica? Parliamo in questo caso di iniziative finalizzate alla partecipazione promosse da soggetti pubblici, che rispondano alla logica di avere all'interno del processo decisionale tutte le persone interessate alla decisione. Questo è l'obiettivo principale, la finalità principale per cui si attivano dei processi di partecipazione. E questo tema della partecipazione, cioè di quanto è poi rappresentativo il risultato di un processo di partecipazione rispetto al numero di persone interessate, è uno degli elementi chiave dei processi partecipativi. Lo sottolineo perché quella sulla quale noi ci stiamo soffermando, sulla quale faremo dei ragionamenti, è una tipologia di partecipazione che non discende dagli obblighi di legge. La pubblica amministrazione attiva moltissimi processi di tipo partecipativo, concertativo, che discendono da norme di legge, per esempio pensate alla pratica, tutto quello che succede nel settore delle politiche ambientali, le procedure autorizzative che richiedono di istituire cabine di regia, di sentire e convocare gli stakeholder per poter poi prendere delle decisioni. Ecco, quello è un tipo di partecipazione che è già molto strutturata, normata, c'è un obbligo per cui le amministrazioni non possono prendere decisioni se non seguendo quell'iter previsto dalla legge. C'è poi invece tutta una parte che è quella più innovativa, quella più capace di produrre valore sociale, che è la partecipazione che la pubblica amministrazione promuove su base spontanea, volontaria, perché crede che ci sia un valore aggiunto nel coinvolgere i cittadini all'interno di processi di questo tipo e che effettivamente ha un problema di rappresentanza, cioè di capire quanto si riesce a coinvolgere, in che modo, attraverso quali strumenti e quanto i risultati che discendono da queste pratiche di partecipazione possono essere considerati, quanto possono essere vincolanti per il soggetto pubblico che ha promosso la consultazione, ai fini poi della presa di decisione. Questo è tanto più vero nei processi di partecipazione che utilizzano le tecnologie, lo vedremo tra poco, perché è abbastanza naturale che questo tipo di processi in qualche modo tenda ad autoselezionare il campione. Quando si utilizzano in maniera, diciamo, per esempio, esclusiva le tecnologie nelle consultazioni online, per fare un esempio, si deve essere consapevoli che ci si sta rivolgendo a una porzione di cittadini che comunque ha accesso a Internet, sa come usare quegli strumenti e quindi è in grado di interagire con il soggetto pubblico che propone la consultazione utilizzandoli in maniera informata e consapevole. Quindi questo è un elemento del quale tener conto. Le consultazioni online, quindi le consultazioni, i processi di consultazione, ascolto che usino le tecnologie, hanno questa come criticità, ma hanno anche altri vantaggi che sono, per esempio, quelli di avere un costo inferiore rispetto ai processi partecipativi tradizionali, hanno meno vincoli, perché non obbligano le persone a essere fisicamente presenti in un posto, in un giorno, in una determinata ora, per poter esprimere la propria opinione. Si avvalgono quindi invece dei vantaggi che offrono le tecnologie per garantire la partecipazione più ampia da parte dei più soggetti possibile. In questo senso, per questo tipo di partecipazione, i social media sono uno strumento importante a supporto della partecipazione dei cittadini. Vi dicevo, stiamo parlando di processi partecipativi che la pubblica amministrazione promuove su base spontanea. lo fa perché ha interesse ad attivare delle politiche di ascolto nei confronti dei cittadini, che normalmente farebbe, perché l'amministrazione vive di un rapporto costante con i cittadini, quindi l'idea è che le persone vengano ascoltate e sentite solo in corrispondenza, per esempio delle scadenze elettorali, è un'idea che si sta sempre più abbandonando, mentre invece l'approccio, la logica, soprattutto quella che si è affermata negli ultimi anni del governo aperto, prevede che ci sia sempre la possibilità di avere dei canali di comunicazione, di ascolto, sempre aperti e disponibili per i cittadini, che in qualche modo consentano anche al soggetto pubblico di tenere il polso della situazione, di capire rispetto al proprio programma, al mandato per il quale si è stati eletti, alle azioni che si intraprendono, qual è l'opinione dei cittadini e nel caso di decisioni particolarmente complesse, di chiedere aiuto, quindi di coinvolgere le persone potenzialmente interessate o che detengono le informazioni che la pubblica maestruzione non ha e che possono essere utili per prendere una decisione migliore, di rappresentare le proprie opinioni, di esprimerle e di partecipare alla presa di decisione. Questo tipo di approccio, quindi l'idea di tenere delle politiche, dei canali di ascolto sempre aperti, ovviamente si è molto avvantaggiato dell'introduzione delle tecnologie dell'informazione e comunicazione. Ovviamente parliamo prevalentemente di Internet e dentro Internet parliamo delle tecnologie che consentono a un soggetto pubblico, quindi alla pubblica amministrazione, di raggiungere il numero più elevato di cittadini possibili utilizzando canali che siano facilmente accessibili dalla maggior parte delle persone. Questo, come vi dicevo, è il vantaggio principale, il motivo principale per cui si scelgono le tecnologie quando si attivano dei processi di partecipazione. E lo si fa anche per quello che dicevo poco fa, perché utilizzare questo tipo di strumenti che consente alle persone di poter partecipare, dare il proprio contributo anche stando a casa propria, nella propria postazione, utilizzando le potenzialità della rete di essere connessa, di entrare in relazione, creare contenuti, partecipare anche stando fisicamente distante dai luoghi nei quali tradizionalmente si svolgono i processi decisionali, sia che siano quelli più formalizzati della pubblica amministrazione, sia che siano dei momenti, delle arene, degli spazi di discussione e confronto fisico che vengono attivati nell'ambito di iniziative di partecipazione. Perché parliamo di questa possibilità delle tecnologie di abilitare questa nuova modalità di relazione e di partecipazione? Perché nel 2000 si è affermato un modello che è quello del web 2.0, cioè di un ambiente nel quale l'utente potesse autonomamente, senza dover necessariamente possedere competenze di tipo tecnico-informatico avanzate, creare contenuti, pubblicare contenuti, creare le proprie rete di relazioni, gestirle, comunicare, senza dover per forza passare da un soggetto che in qualche modo intermediasse, che era la prima versione, il primo modello di internet che ci è stato proposto, quello nel quale comunque tra il singolo e poi lo spazio di discussione e creazione di contenuti aperto su web, ci fosse un passaggio intermedio, c'è un soggetto che poteva essere un sito web, un gestore di servizi, una piattaforma che in qualche modo servisse ad abilitare la partecipazione dei singoli. Con l'approccio del web 2.0 questo passaggio, cioè la necessità di questa intermediazione è stata superata, uno dei vantaggi di questo approccio è proprio la disintermediazione, c'è il fatto che le persone potessero avere accesso direttamente alle informazioni, le potessero riutilizzare, rielaborare, crearne di nuove e diffonderle. Il passaggio immediatamente successivo che ha veramente rivoluzionato il nostro modo di rapportarsi e di gestire le tecnologie dell'informazione e della comunicazione è avvenuto solo nel 2010 ed è quello di cui parliamo in questo intervento e sono i social media. Quindi stiamo parlando di un ambiente che non sembra ma negli ultimi anni si è evoluto ed è cambiato in maniera molto importante, è entrato nelle vite di tutti, quindi non solo nelle persone che avevano le competenze per poterlo utilizzare ed è diventato uno strumento attraverso il quale noi comunichiamo costantemente e lo facciamo non solo perché esistono delle piattaforme che sono i canali, gli strumenti delle web sociali e quindi in particolare i social media che sono progettati per rendere facile, accessibile la nostra esperienza di utilizzo quotidiano di questi canali, ma perché abbiamo la possibilità di farlo utilizzando più strumenti quindi non siamo vincolati al fatto che per poter accedere a internet dobbiamo stare a casa, avere un pc davanti, trovarci in una condizione per cui abbiamo un cavo che ci collega a un'uscita di rete o a un modem che ci consente di andare sul web, ma abbiamo la possibilità di farlo utilizzando gli strumenti che comodamente ci portiamo in tasca, quindi questo è un altro elemento che ha favorito la diffusione di queste tecnologie, la crescita di utenti di quelle piattaforme che abbiamo visto nelle mappe e nei grafici che vi ho fatto vedere all'inizio e che fa sì che adesso ciascuno di noi semplicemente utilizzando un telefono portandoselo dietro ha la possibilità non solo di essere sempre connesso ma anche di poter interagire e quindi nella idea di poter usare questi strumenti per attività di partecipazione di essere raggiunto dalla comunicazione, dall'informazione del soggetto che promuove l'iniziativa e a sua volta di poter partecipare anche magari essendo fisicamente fuori casa o in un posto nel quale normalmente non avrebbe il computer dietro per poterlo fare. Qual è il vantaggio in termini di politiche pubbliche? Io parlavo prima, ho usato un termine che è quello legato alla creazione di valore sociale. La rivoluzione generata dal Web 2.0 e dalla diffusione delle piattaforme di social networking ha generato da parte dei cittadini una domanda di poter partecipare. Il fatto di poter utilizzare questi strumenti, di essere sempre connessi ha creato in qualche modo una esigenza che prima non c'era, cioè quella di poter usare questi spazi per esprimere le proprie opinioni e per entrare in contatto con il soggetto pubblico. Adesso ovviamente voi lavorate per una pubblica amministrazione e quindi siete diciamo un caso particolare di utenti, però per esempio se vedete le statistiche di accesso a internet che riguardano le fasce più giovani, per esempio è rarissimo comunque una percentuale molto bassa per esempio quella dei giovani che si informano accedendo ai siti istituzionali, ai siti dell'APA. Quasi tutti i canali informativi che vengono usati dalle fasce sociali più giovani sono i canali di web sociale, è difficile che un giovane che cerchi un'informazione vada sul sito di un comune, vada sul sito di un ministero, è più facile che invece utilizzi quegli altri spazi che abbiamo visto, che sono le piattaforme social, anche per informarsi o per attraverso quegli ambienti entrare in contatto con le pubbliche amministrazioni ed è questo uno dei motivi per cui da diversi anni ormai la pubblica amministrazione ha aperto degli spazi di rappresentanza, di presenza più o meno bidirezionale, più o meno interattiva all'interno delle principali piattaforme dei social. Tenere conto di questo aspetto, cioè valutare questa esigenza da parte dei cittadini di essere ascoltati, di poter partecipare, di esprimere opinioni utilizzando questi strumenti, è utile soprattutto in termini di mantenere vivo l'interesse e la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. Questo per combattere quello che negli studi, nelle valutazioni per esempio dell'Unione Europea che ha molto analizzato questi fenomeni è chiamato il deficit democratico. Noi tutti abbiamo visto i dati relativi alla partecipazione per esempio nelle ultime tornate elettorali, i numeri altissimi di astensione, i numeri altissimi di persone che non vanno a votare, non solo in Italia ma in tutti i paesi europei, sono un segnale importante del fatto che c'è un disinteresse da parte dei cittadini rispetto ai momenti tradizionali di ascolto. Utilizzare in maniera più continuativa, ragionata, consapevole anche gli spazi della partecipazione online, mantenere aperti dei canali di ascolto e di discussione. Posso chiedere chi sta spostando le slide? Grazie perché così è un po' destabilizzante. Dicevo, utilizzare questi strumenti in maniera consapevole ha un'utilità anche in questi termini, nel fatto di averne un vantaggio rispetto al fatto di creare un'opinione pubblica consapevole che sia poi non solo capace di esprimere la propria opinione quando ci sono dei momenti e delle occasioni per farlo che coincidono con le consultazioni, con le iniziative di partecipazione, ma che sia abituata ad avere una relazione costante col soggetto pubblico, che questa relazione non si interrompe o non avviene solo in momenti temporalmente identificati, ma che diventa di fatto una prassi costante. Il vantaggio è quello che vi dicevo, cioè di intervenire su questi meccanismi che in qualche modo stanno, sono dei segnali di sofferenza dei nostri modelli democratici e attraverso questi canali e queste modalità di partecipazione recuperare la disponibilità e l'interesse dei cittadini a occuparsi della cosa pubblica. In questa logica la partecipazione online diventa uno strumento della partecipazione tradizionale, mantiene gli stessi obiettivi e le metodologie dei processi partecipativi della partecipazione civica che viene fatta attraverso momenti e incontri in presenza, li deve adattare al contesto dei nuovi media e al linguaggio e ai meccanismi della rete. Perché esattamente come succede nell'utilizzo dei canali social per la comunicazione, anche l'utilizzo dei canali social all'interno dei processi partecipativi richiede di conoscere le regole di questi strumenti, di conoscerne il linguaggio, di saperli usare in maniera consapevole per evitare di fare danni, esattamente come succede quando si usano male questi canali nella comunicazione istituzionale o quando li si usa come canali di contatto e relazione con i cittadini senza avere una piena consapevolezza di quelli che sono i vincoli e i rischi connessi all'utilizzo di questi strumenti. Quali sono i principali ambiti, gli aspetti per i quali è utile utilizzare i canali social per coltivare un rapporto con gli utenti, quindi in questo caso per la pubblica amministrazione verso i cittadini. Sono principalmente tre, soprattutto legati al discorso della partecipazione civica, i vantaggi nell'utilizzare questi canali. Innanzitutto ovviamente come forma di dialogo con i cittadini, quindi con un'ottica più di relazione. Un secondo aspetto del quale tenere conto, per il quale è utile valutare di usare questi canali è per attività di informazione e di comunicazione. Un terzo ambito di interesse riguarda specificatamente per i processi di tipo partecipativo l'utilità di utilizzare canali di comunicazione del web sociale per, per esempio, diffondere i risultati e favorire processi di valutazione e monitoraggio civico rispetto alle iniziative di partecipazione che si sono realizzate. Cosa vuol dire utilizzare questi canali come strumenti di dialogo? Innanzitutto il primo aspetto da tenere conto è ovviamente il fatto di scegliere i canali. Quindi una volta che si sono identificati quali sono le piattaforme che si vogliono utilizzare, quali sono i canali sui quali si vuole essere presenti con una presenza istituzionale, le modalità attraverso le quali utilizzare quei canali sono innanzitutto modalità attraverso le quali si abilita il dialogo e l'interazione dei cittadini rispetto ai contenuti e alle iniziative che si trasmettono e si comunicano attraverso questi canali. Quindi il primo obiettivo è sempre quello di avere una relazione, di aprire un dialogo, di far capire alla propria utenza che c'è uno spazio attraverso il quale si possono porre domande che saranno ascoltate, alle quali saranno date delle risposte e dare conto del fatto che il parere, le opinioni, il contributo che arriveranno attraverso quei canali saranno considerati. Quindi in qualche modo avere una cura rispetto al fatto che questo tipo di rapporto sia gestito con modalità di comunicazione che vengono dette calde, c'è il fatto di non lasciare per esempio domande non risposte, di esprimere il gradimento, di ringraziare quando viene emesso un contributo, quindi tutte quelle attenzioni che fanno sì che la persona che utilizza quel canale per relazionarsi col soggetto pubblico si senta considerato e capisca che c'è un'attenzione verso il contributo che sta dando attraverso quello strumento. Una seconda modalità riguarda il fatto di poter utilizzare questi strumenti per raccogliere il gradimento rispetto a un'iniziativa, quindi per esempio pubblicare dei contenuti che riguardano un'azione che si sta portando avanti, un processo di partecipazione, un'iniziativa di ascolto, un incontro pubblico oppure l'apertura di uno spazio di discussione sul quale si chiede alle persone di dare un contributo, quindi ancora una volta il fatto di sfruttare dei meccanismi che sono propri dei canali social, che sono canali pensati per abilitare la partecipazione, non strutturati per quelle che sono le finalità della partecipazione civica, che richiedono molto spesso strumenti ad hoc, che richiedono l'utilizzo di piattaforme di ascolto e partecipazione che siano strutturate per rendere quel dialogo il più possibile ordinato, per dare la possibilità a tutti di partecipare, dare visibilità ai contributi di ciascuno utilizzando degli strumenti e delle polizie di moderazione adeguata. Tutto questo ovviamente è possibile farlo anche sui canali social, però l'utilizzo di questi strumenti puri e semplici per la partecipazione richiederebbe un investimento in termini di tempo e di presenza che probabilmente non è sempre possibile avere. Per questo quando si utilizzano questi strumenti nella partecipazione online, si utilizzano normalmente a supporto di spazi, di ambienti, di partecipazione e di ascolto che vengono creati su piattaforme che nativamente servono a gestire processi tipo partecipativo. Ce ne sono molti, non so se voi avete avuto modo di utilizzarli, però per esempio ci sono piattaforme come AidaScale o gli stessi strumenti che trovate a disposizione su Google possono essere utilizzati per fare attività di ascolto e di partecipazione. Quindi strumenti che in qualche modo abilitano le persone a esprimere dei pareri e delle opinioni, a supporto di questi spazi può essere utile utilizzare i propri canali social, quindi gli spazi che già l'amministrazione presidia per avere in qualche modo un arricchimento dell'esperienza di partecipazione. Un altro elemento del quale tenere conto e per il quale è utile utilizzare i social media è per quello che si chiama normalmente l'analisi e la valutazione del sentimento, cioè dell'opinione, dei pensieri, di quella che è l'idea dei nostri utenti e rispetto alle iniziative che stiamo portando avanti e alle azioni che stiamo conducendo. Questo tipo di utilizzo dei canali social è molto utile soprattutto per la pubblica amministrazione, non solo quando si conducono delle attività di tipo partecipativo, perché ovviamente attraverso analisi di questo tipo che vengono condotte con strumenti di analisi particolare, vengono fatte per esempio delle analisi sulle parole più usate, sui commenti e le interazioni che vengono fatte sulle piattaforme e gli spazi di discussione, andando a vedere come si polarizzano le discussioni, per esempio andando a vedere quali sono i commenti e i contributi che vengono più condivisi, quelli sui quali ci sono più like e in base a quello si possono fare delle valutazioni per andare a capire qual è la percezione che i nostri utenti hanno dell'iniziativa che noi stiamo conducendo. Questo tipo di analisi viene fatta normalmente quando si utilizzano gli strumenti delle web sociale per fare comunicazione, ha più senso, tanto più ha senso farlo durante le iniziative di partecipazione, soprattutto di partecipazione online, perché aiutano soprattutto durante la durata, lo svolgimento del processo di partecipazione, anche per esempio a intercettare criticità, a capire se ci sono dei problemi, se sta avvenendo qualcosa per il quale è necessario, magari intervenire con delle comunicazioni mirate, bloccare subito alcune derive che potrebbero allontanare da quella che è la finalità della discussione e portare poi a dei risultati che non possono essere considerati ai fini della partecipazione. L'attenzione al monitoraggio, quindi a usare questi strumenti e a monitorare le discussioni mentre avvengono durante un processo di partecipazione, è particolarmente importante perché la partecipazione, ovviamente qualunque processo di tipo partecipativo ha dei costi, è un'attività onerosa per la pubblica amministrazione, richiede tempo, richiede persone dedicate, in qualche modo interrompe il flusso temporale e normale di presa di decisione del soggetto pubblico, per cui normalmente quando si attivano processi di questo tipo si ha tutto l'interesse a che quel processo sia produttivo, che i contributi che arrivano siano il più possibile e contributi di qualità, che poi possano essere utilizzati, quindi che siano di aiuto alla pubblica amministrazione nella presa di decisione. Per questo motivo tenere conto durante lo svolgimento di quelle che sono le opinioni che si stanno esprimendo, monitorare, presidiare e intervenire se necessario negli spazi di discussione, che possono essere appunto spazi aperti sui canali social, è in qualche modo un accorgimento che aiuta a garantire che se ci sono dei contributi di qualità emergano, poi ovviamente durante la partecipazione ai processi partecipativi arriva a qualunque tipo di contributo, non è possibile ovviamente selezionare alla fonte, tutti hanno diritto di esprimere le proprie opinioni, anzi è auspicabile che lo facciano, però mantenere degli accorgimenti per riorientare il dibattito e evitare che ci siano quelle forme estreme di discussione che sono tipiche dei canali social, io non so se ne avete parlato, se sono con città o i noti, però per esempio bloccare i flame nel momento in cui partono, identificare se ci sono quelli che normalmente si chiamano troll e cercare di isolarli, cioè tenere d'occhio quelle dinamiche che sono tipiche di questi canali e che potrebbero in qualche modo condizionare negativamente il processo di partecipazione e se li stiamo utilizzando in questo senso. Ecco, un punto di attenzione su questo, quindi in qualche modo a tutto quello che riguarda il monitoraggio, la moderazione delle discussioni durante le consultazioni è un elemento che può essere tra gli elementi critici per il successo di una consultazione online e occorre tenerne conto. Quando, appunto, vi ho detto ora, c'è un'attenzione particolare da dare durante il percorso di consultazione quando si utilizzano gli spazi del web sociale. Le azioni di accompagnamento di un percorso di partecipazione online attraverso i canali social sono, oltre appunto a questo focus sul tema legato alla moderazione e al monitoraggio in itinere, riguardano innanzitutto l'informazione. I canali social sono uno strumento importante da utilizzare durante una consultazione per informare, per informare sulle modalità di partecipazione, per informare su quello che sta accadendo negli spazi della partecipazione, quindi se si stanno usando delle piattaforme per la partecipazione online, cosa sta succedendo sulla piattaforma, se si stanno usando questi canali a supporto di progetti partecipativi in presenza, cosa sta succedendo quando le persone si riuniscono per partecipare, quindi in qualche modo utilizzare questi spazi come amplificatori dell'informazione, quindi per ampliare il più possibile e in qualche modo per invogliare e sostenere la partecipazione, magari persone che vorrebbero partecipare e non sapevano dell'esistenza di quella iniziativa hanno modo di farlo informandosi attraverso i canali social e quindi in qualche modo si allarga ancora di più la possibilità di persone che possono partecipare, esprimere un'opinione, dare un suggerimento, proporre una soluzione e quindi in qualche modo raggiungere uno degli obiettivi di questi percorsi che è quello di far sì che, come vi dicevo all'inizio, tutte le persone interessate o comunque il maggior numero possibile di persone interessate a quella decisione abbiano modo di partecipare ed esprimerla. Normalmente l'informazione viene data attraverso gli spazi di partecipazione online, attraverso la piattaforma e i canali che è il soggetto che promuove l'iniziativa di partecipazione e presidia. Questi spazi di partecipazione è utile che durante il periodo di svolgimento della consultazione siano utilizzati appunto per informare, per ampliare l'informazione, che i cittadini siano informati del fatto che li possono utilizzare per quel motivo, quindi che durante quell'arco temporale anche attraverso quei canali sarà possibile interagire, sarà possibile esprimere un parere, partecipare. Questo è tanto più vero nelle consultazioni online, perché come vi dicevo prima, le consultazioni online in qualche modo autoselezionano il campione, si rivolgono idealmente a persone che stanno già su internet e quindi presumibilmente se queste persone stanno già su internet, stanno già anche sui canali social. Per tornare a quello schema iniziale, quei 31 e passa milioni di italiani che abitualmente usano i canali social, che ovviamente sono una parte dei cittadini che potrebbero partecipare al processo di partecipazione, però in questo caso c'è una coincidenza, quindi utilizzare i canali del web sociale e i social network durante i processi di partecipazione online ha il vantaggio di utilizzare dei canali che sappiamo con un'elevata probabilità raggiungeranno le stesse persone che noi vogliamo ascoltare. Quindi questo è un elemento del quale tenere conto e che in qualche modo motiva la scelta di questi canali per la partecipazione. Un'altra modalità, un altro motivo per cui usare questi canali è per esempio per utilizzarli per dare informazioni di tipo tecnico, per esempio se si usano piattaforme, se si usano canali che richiedono, che so che le persone per esempio si registrino, compilino dei questionari, mandino dei contributi iscritti, quindi in qualche modo interagiscano in modalità che possono essere problematiche. Lo spazio social, lo spazio su Facebook piuttosto che su Twitter dell'ente che propone, che presidia la consultazione può essere un canale attraverso il quale per esempio dare un servizio di supporto, di aiuto alla risoluzione dei problemi, di risposta alle domande più frequenti. quindi è un'altra modalità attraverso la quale si possono usare questi canali e che è anzi opportuno che venga utilizzato proprio in una logica di facilitare, abilitare il più possibile, il più alto numero di persone alla partecipazione. Vi dicevo all'inizio che ovviamente stare su questi canali richiede di conoscere le regole, di conoscere il linguaggio e di usarli in maniera appropriata. Qual è anche il vantaggio? Non solo il fatto di usarli bene, ovviamente questo è un elemento importante, ma anche c'è un altro elemento sul quale vorrei richiamare la vostra attenzione che è legato al fatto che noi stiamo utilizzando dei canali utilizzati da milioni di persone, sui quali vengono pubblicati costantemente migliaia e migliaia di messaggi, quindi sono degli spazi che è vero che abilitano la partecipazione di tutti, ma proprio per questo sono degli spazi che generano rumore. è talmente tanta la quantità di informazioni che ogni giorno viene pubblicata su Facebook, piuttosto che su Twitter, su YouTube e sugli altri canali che abbiamo visto sono così utilizzati che si corre il rischio che le informazioni che noi vogliamo che passino, cioè quelle mirate sull'attività che stiamo conducendo, per l'utenza che noi vogliamo raggiungere, si perdano. Per questo motivo è utile quando si integrano questo tipo di strumenti all'interno dei processi di partecipazione, utilizzarli avendo cura che le informazioni che noi pubblichiamo là dentro siano connotate e immediatamente riconoscibili come attribuite a un'amministrazione o un'iniziativa. Questo che vi faccio è l'esempio di Twitter, su Twitter normalmente si utilizza per connotare un messaggio, un'iniziativa, questo tipo di simbolo che è l'hashtag, l'hashtag è un'etichetta che serve ad identificare un contenuto. L'hashtag può essere utilizzato per moltissime finalità, quella principale ovviamente è quella di, come vi dicevo prima, di connotare quel messaggio come attribuito a un ente o a un'iniziativa. Questo che vi faccio vedere è un messaggio che il sindaco di Londra ha pubblicato su Twitter il giorno dopo il voto sulla Brexit. Londra è una città nella quale ha vinto in maniera massiccia Stay, quindi la maggior parte dei cittadini che hanno votato Cannes come sindaco avrebbero voluto rimanere nell'Unione Europea. è una città che ha un numero elevatissimo di persone che vengono da altri paesi europei e dal resto del mondo. Con questo messaggio il sindaco ha voluto tranquillizzare le centinaia di cittadini londinesi non inglesi sul fatto che la città di Londra avrebbe continuato ad accoglierli. E l'ha fatto utilizzando quest'hashtag che vedete, London is open, che serviva proprio per dare un messaggio, quindi per in qualche modo parlare ai propri cittadini rassicurandoli. Questo tipo di attenzione, di utilizzo degli hashtag, delle parole chiave per la comunicazione all'interno di invece processi di tipo partecipativo può essere utilizzata in vario modo. Come vi dicevo può essere utilizzata per informare. Questa che vedete è una pagina estratta dal portale della partecipazione della Regione Emilia-Romagna, si chiama Io partecipo Plus. Durante le consultazioni aperte, nelle stanze, perché si chiamano stanze quelle della piattaforma della Regione Emilia-Romagna, le discussioni che vengono fatte fuori da quegli spazi, per esempio sull'account Twitter dell'amministrazione, sul portale tematico dedicato a quel tema, vengono riportate dentro la piattaforma e tutte le discussioni, gli interventi che vengono fatti in questo caso su Twitter riportano un hashtag che viene definito nel momento in cui viene lanciata la consultazione e quindi tutte le persone che partecipano sono invitate a utilizzarlo in modo da poter identificare in maniera univoca i contributi che rientrano in quella iniziativa di partecipazione attribuendoli, quindi valorizzandoli all'interno dello spazio online e attribuendoli a quella tematica sulla quale si sta chiedendo di esprimere dei contributi. Quindi in questo caso si sta in qualche modo ampliando l'informazione relativamente al fatto che c'è un'iniziativa in corso che riguarda quei temi e che se ne discute all'interno di quegli spazi. Un altro modo per usare i canali social, in questo caso sempre Twitter, è quello per promuovere un'iniziativa di partecipazione. Questo è un tweet che è stato pubblicato nel momento in cui lo scorso novembre è stata aperta una consultazione online sul sito dell'ANA che riguardava le linee guida sul Freedom of Information Act, la versione italiana che era in consultazione in quel periodo. In questo caso il tweet serviva a segnalare che c'era una consultazione aperta e invitare le persone a partecipare. Quindi in qualche modo veniva usato come strumento di promozione, diffusione dell'informazione sul fatto che c'era una consultazione aperta e che si poteva partecipare. Un'altra modalità di usare questi strumenti, in questo caso è sempre Twitter, per promuovere l'engagement, cioè per incrementare la partecipazione. In questo caso la consultazione è sempre una consultazione che si è aperta recentemente, promossa dal Comune di Roma, sull'agenda digitale. In questo caso il tweet serviva a, in qualche modo, sollecitare le persone e dire ok, aperta, mancano ancora, avete ancora tre giorni per poter partecipare, sinora sono state mandate tante idee, fatelo. Quindi un modo di usare un canale, in questo caso Twitter, per invogliare e stimolare le persone a essere più attivi a partecipare. C'è un elemento sul quale voglio soffermarmi, poi mi avvio a concludere perché ho quasi finito il mio tempo, ed è questo. Quando si usano gli strumenti del web sociale, in particolare gli spazi social dell'amministrazione, Facebook, Twitter o altro, all'interno di questi processi, occorre prestare molta attenzione al fatto che quello che è l'obiettivo è di usarli appunto come canali, cioè l'attenzione del cittadino che partecipa per una volta, quindi normalmente non è così, però in questo caso non deve essere concentrata sul canale, cioè quello che noi vogliamo utilizzando questi strumenti non è che le persone partecipino su Twitter o postino contenuti su Facebook. Quello che vogliamo è che partecipino negli spazi della consultazione, quindi che vadano sulla piattaforma di partecipazione e mettano il proprio contributo, che se stiamo usando quei canali per promuovere un incontro in presenza, che partecipino, cioè che quel giorno e quell'ora in cui c'è un'assemblea, i cittadini sono evitati a partecipare e le persone vadano. Quindi per una volta diciamo quello che interessa in questo ragionamento è che i canali social in qualche modo giochino di sponda rispetto agli spazi della partecipazione che l'amministrazione ha aperto, quindi non è importante che partecipino dentro la pagina Facebook, che interagiscano con l'accanto Twitter, è importante anche quello e ovviamente abbiamo detto è utile che si faccia, è utile che le persone pongano domande e chiedano, però l'obiettivo di chi gestisce quei canali durante i percorsi di partecipazione è di indirizzare le persone verso gli spazi dove il loro contributo può essere espresso, dove possono interagire, dove possono compilare il questionario, partecipare al sondaggio, mandare il loro contributo a seconda di quella che è la tipologia di consultazione che si sta conducendo. Quindi questo è un elemento del quale tener conto soprattutto nella fase di gestione e moderazione di quegli spazi mentre la consultazione è aperta. L'ultimo elemento, come vi dicevo, è quello finale, quindi come utilizzare questi spazi per promuovere gli esiti e i risultati di una iniziativa di partecipazione. Questo è la chiusura, è la fase finale di qualunque processo di partecipazione. Il processo si progetta, viene realizzato, c'è una fase finale di valutazione, analisi e risultati, dopodiché quei risultati devono essere comunicati. Questo perché ovviamente chi esprime un'opinione ma del proprio contributo ha diritto di sapere che uso non è stato fatto. Quindi se la propria idea, il proprio suggerimento è stato considerato, se non è stato considerato, per quale motivo non è stato considerato e comunque avere in qualche modo un feedback, cioè sapere come è andata a finire. Questo tipo di comunicazione e diffusione di risultati ovviamente viene fatto attraverso i canali istituzionali, quindi verrà fatto attraverso il sito istituzionale, normalmente viene fatto producendo dei report, dei documenti che vengono pubblicati e diffusi attraverso i canali che l'amministrazione presidia. I canali social possono amplificare, in questo senso, possono essere degli spazi ulteriori sui quali dare visibilità a cosa è stato fatto e agli esiti della consultazione. Questa che vedete è un'infografica che è un'altra modalità attraverso la quale si può fare diffusione dei risultati, quindi non necessariamente si deve produrre un report scritto, si possono anche utilizzare modalità di visualizzazione che rendano più facile la comprensione di quella che è stata la dimensione dell'iniziativa, quante persone hanno partecipato, quanti commenti sono arrivati, che tematiche hanno riguardato, eccetera. Questo esempio che vi faccio vedere è un esempio di utilizzo dello spazio Facebook, in questo caso del Comune di Milano. Il Comune di Milano lo scorso anno ha attivato un processo di partecipazione utilizzando la metodologia del bilancio partecipativo, l'ha fatto utilizzando delle modalità molto tradizionali, quindi normalmente con incontri in presenza, per quartieri, quindi un percorso molto strutturato utilizzando metodologie di partecipazione tradizionali. Ha però utilizzato dall'inizio Facebook e in questo caso una pagina dedicata, quindi non la pagina istituzionale del Comune, però una pagina che fosse riconducibile all'amministrazione comunale, quindi vedete c'è comunque lo stema del Comune, ci sono le informazioni che servono a identificare quella pagina come riferita a un'istituzione pubblica. Lo spazio di partecipazione è stato attivo durante la consultazione, per cui voi trovate, ovviamente c'è lo storico, quindi se andate sulla pagina Facebook del Comune vedete anche tutto il processo. Quindi qua venivano pubblicizzate anche tutte le assemblee, tutti i momenti di incontro di partecipazione, dopodiché quando la consultazione si è chiusa hanno pubblicato qua gli esiti e poi è successa una cosa un po' particolare, ci sono state le elezioni, è cambiata l'amministrazione e c'è stato un momento di vuoto, cioè questa pagina non veniva presidiata, non si capiva cosa stesse succedendo. Le persone hanno iniziato a scrivere, hanno iniziato a scrivere dicendo io ho partecipato, sono passati i mesi, non so cosa è successo, cosa state facendo, perché non ci sono più informazioni. Con l'insediamento della nuova giunta, l'attuale giunta milanese ha creato una figura che è proprio l'assessore alla partecipazione e al tutto il tema digitale open data che è una persona molto sensibile su questi temi e che ha cercato di recuperare, cioè l'amministrazione a quel punto ha ripreso e quella che vedete infatti sono gli ultimi contenuti pubblicati, quella che loro chiamano fase 4, la realizzazione dei progetti, in cui stanno continuando a usare questo spazio per diffondere l'informazione su cosa si sta facendo. Il processo si è concluso, questi progetti hanno vinto, i cittadini hanno deciso che l'amministrazione finanzierà questi progetti, cosa stiamo facendo? In questo momento i cittadini hanno modo di vedere per i progetti che sono stati votati e che avevano i requisiti per essere finanziati dall'amministrazione, che cosa si sta facendo? Questa cosa viene fatta utilizzando questo spazio Facebook, pubblicizzando qua le iniziative in presenza, ma anche facendo delle assemblee che vengono trasmesse in streaming sempre attraverso la pagina Facebook. Vi ho fatto questo esempio perché in realtà copre tutti gli ambiti, cioè segue dall'inizio sino alla fine il percorso di partecipazione e lo segue anche quando il processo è concluso come canale sempre aperto di comunicazione con i cittadini rispetto a quello che si sta facendo, quindi in un'ottica più di monitoraggio civico, quindi di dare modo ai cittadini di essere informati e alla pubblica amministrazione di essere accountable, cioè di rendere conto di quello che sta facendo e di come sta tenendo conto dei suggerimenti e delle proposte che sono arrivate.